Buongiorno a tutti, sono Stefano Rimini, barista di Cortinovis, ci troviamo in Honduras in compagnia di Andrej Godina, Valle Las Capucas e precisamente siamo nella finca Rio Colorado. Vi spiego un po' che cosa significa finca Rio Colorado e quello è il progetto di Umami Area Honduras. Io con altri soci, attualmente siamo in più di 35, abbiamo fondato qui in Honduras una società che si chiama appunto Mami Area Honduras e con il capitale sociale abbiamo comprato una piantagione. La piantagione si chiama Rio Colorado proprio perché ci sono due fiumi che passano attraverso la piantagione, il Rio Aruco e il Rio Colorado. Come vedete qui i partner locali c'è la cooperativa Capucas che è la cooperativa locale dei produttori di caffè, poi l'esportatore Coffee Planet. Abbiamo dei micro lotti di alta qualità del nostro caffè che sono divisi all'interno delle singole, nella piantagione grande abbiamo individuato dei singoli lotti dove si produce alta qualità anche con specie di caffè arabica di singola varietà botanica, abbiamo il Parainema, abbiamo il Catuai, abbiamo l'Obatà ed è un progetto di produzione di caffè di alta qualità socialmente responsabile. Che significa? Da quest'anno infatti siamo anche sede della Slow Food Coffee Community qui di Las Capucas ovvero sia significa che il caffè aderisce al manifesto di Slow Food per la responsabilità sociale che si porta dietro, ovvero sia il caffè giusto, pulito e buono. Buono inteso sia anche come qualità di tazza ma è anche buono per l'ambiente e per il luogo dove ci troviamo. Abbiamo riforestato delle zone della nostra piantagione, non lavoriamo qui il caffè col metodo lavato per non inquinare i fiumi e le fonti d'acqua e abbiamo anche delle arnie con delle api proprio per far sì che possano impollinizzare non solo le piante di caffè ma anche la foresta qui a fianco del Parco Nazionale del Selache. Il caffè è giusto perché riesce a pagare e a sostenere i costi del lavoro delle persone qui in piantagione con un contratto e che quindi garantisce loro la previdenza sanitaria e anche gli oneri per la pensione e poi oltretutto è pulito, ovvero sia è un caffè che permette di poter dare al consumatore quella garanzia di poter bere un buon caffè che sia socialmente responsabile, che faccia bene all'ecosistema ma che soprattutto aiuti la comunità locale qui della valle. Ok, grazie Andrei. Bene, ciao a tutti qua dall'Honduras. Ciao. Ciao.